Se non era per il sottoscritto che ha proposto Grasso alla base, Grasso dormiva nel frigo. Il signore salverà l'Italia, grazie. Non certo lei. Dettagli invece, che versare? Ma fatelo questo nome per... Ma perché lo devo fare? Perché il Presidente della Repubblica non me lo chiedi? Perché è su questo che si trovano degli accordi, no? Immagino con gli altri partiti, altrimenti su che cosa... Dalla base abbiamo deciso Carlo Gisburg potrebbe essere un'idea. Dalla base Carlo Gisburg, autorevole, importante. Invece voi non siete capaci nemmeno di fare mezzo nome, questo è il problema. Perché Gisburg ha una storia di antifascismo. Facciamo le spalle che ha sparato Grillo contro una certa storia. Noi invece vogliamo fare una storia antifascista. Fallo parlare. Carlo Gisburg potrebbe essere un'idea. Vediamo se ne disegnete qualcuno. Senza crocifiggere nessuno sentiamo un po' di cosa appunto... Non dirò, cioè nel senso... A parte non sarebbe corretto neun fronte degli altri, l'ultima del gruppo. Però il punto è che si gioca sui nomi in un accordo, no? No, il punto si basa su quelli che sono i nostri programmi. La volontà di fare i dergati modissimi.